Quando ho scoperto che tra il 1945 e il 1952 partivano 70.000 bambini dal meridione, ma anche dal Lazio, molti da Cassino e dal Milanese. Questa storia per me aveva la magia della storia, perché era un fatto vero, documentato, ma parallelamente mi sembrava anche una grande fiaba. Tutti questi bambini in fila che partono ai treni come se ci fosse un pifferaio a condurli verso un paese dei balocchi, un paese delle meraviglie. Quindi questi due aspetti mi sembravano veramente narrativamente coinvolgenti. I personaggi sono personaggi sofferenti, che certamente assaporano anche la felicità, però c'è una parte del tuo libro in cui fai raccontare a uno di questi personaggi, il protagonista, il fatto di tornare e di trovarsi divisi a metà. È un aspetto che hai ritracciato anche negli incontri con le persone, con le storie che hai raccolto? Parlando con le persone che ho intervistato, tutti o quasi tutti privilegiavamo nel racconto il momento della felicità e della scoperta. È stata una cosa bellissima e dicevo sì, ma poi quando sei tornato cosa provavi? Questo aspetto nel ricordo era come minoritario, come se fosse stato appannato. Ho anche avuto la testimonianza di una mamma di Cassino che attraverso una lettera che mi è stata recapitata di quell'epoca racconta la sua storia e la sua storia è che lei manda la sua bambina di sei anni a Parma. La bambina resta lì alcuni mesi, quando ritorna la mamma di Cassino scrive alla mamma di Parma la piccola Ida è tornata, sta bene, tutti i giorni piange e mi chiede di voi e all'inizio da quando è tornata io ho fatto fatica a farmi riconoscere come madre. E quindi ho pensato, allora c'è anche questa parte, c'è il dolore del genitore che è costretto ad affidare ad altri il proprio figlio perché non è capace, non ha la possibilità materiale di poterlo mantenere. Mantenere significa nutrirlo essenzialmente, quindi il problema della fame. Quindi già questa è un'umiliazione. Il problema del bambino che comunque vive un distacco, anche se affindi bene, però per il bambino il fatto di essere alienato, allontanato dalla mamma e dal papà comunque crea un malessere, un sospetto di abbandono. E poi il terzo passaggio, quello del ritorno. Perché chi è partito senza scarpe o con le scarpe strette e poi ha avuto delle scarpe comode, come fa poi a ritornare nelle scarpe strette senza provare un senso di dispiacere, di fastidio e allo stesso tempo il senso di colpa per dire sì, però questa è la mia realtà, quella non lo era. Quindi un dover ridimensionare ancora una volta le proprie aspettative. Quindi oltre all'esperienza bella e alla felicità, è vero, c'è anche un treno di tristezza e di dolore, di angoscia. Quindi ho cercato di fare il periplo di questa storia e cercare di scandagliare tutti gli aspetti, sia quelli più luminosi che quelli più bui. C'è l'aspetto delle famiglie, le famiglie che restano lì, che non sono famiglie che non vorrebbero spesso curarsi dei bambini, ma sono in tali condizioni che quasi non c'è la scelta. Ci descrivi, non so se il protagonista, a me sembra particolarmente significativo, Amerigo Speranza. Qual è il personaggio che secondo te è un personaggio o dei personaggi chiave di questa storia? Da dire Amerigo perché lui che prende per mano il lettore, dice, stai qui, stai vicino a me, ascolta tutto quello che ho da dirti perché adesso ti racconto la mia storia. La cosa di mamma guardami è tipico dei bambini, quindi i bambini esercitano questa sottile violenza, questa pressione per essere ascoltati. Ma c'è un personaggio che io amo, a cui sono particolarmente legata, ed è Maddalena, la partigiana, che troviamo all'inizio della storia nell'organizzazione di questa missione particolare di salvataggio dei bambini, accompagna i bambini sul treno, assisti al momento in cui i bambini vengono, tra virgolette, scelti dalle famiglie emiliane. Ho voluto che ricomparisse anche nell'ultima parte del libro, quella che è ambientata negli anni 90, in cui Amerigo è diventato grande, è un uomo, e Maddalena è ancora lì. E mi sembra che lei sia un po' la coscienza della storia, avrebbe detto Manzoni il sugo della storia, ce lo racconta Maddalena, perché lei è capace di interpretare quel sentimento di solidarietà in prima persona, sulla propria pelle, quindi è un esempio vivente. È un personaggio di fantasia, anche se ho voluto col nome omaggiare una famosa partigiana napoletana che si chiama Maddalena Cerasuolo, che fu nelle quattro giornate di Napoli e insomma è stata sempre in prima linea. Ci racconto un altro pezzettino del libro, cioè non si tratta semplicemente di buoni propositi di singole persone, ma si tratta di un'organizzazione molto molto complessa, ma anche che riesce a portare a termine i viaggi di tanti 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 bambini su questi treni. Quando il libro parla di dignità e quando parla di capacità di sostegno a chi si trova in condizione di maggior disagio, va recuperata quella parte che è la parte dell'organizzazione. Cioè che cosa era la solidarietà che tu descrivi in questo libro? Non mi sembra sia semplicemente una solidarietà di cuore del singolo individuo, ma qualcosa di più grande, di comunitario. E' proprio Maddalena che a un certo punto fa questa distinzione. Una cosa è la solidarietà e una cosa è la carità. La carità è una cosa bellissima, un sentimento nobile, ma è un'iniziativa individuale legata al singolo ed è un gesto verticale. Da me che faccio la carità a te che la ricevi. Ed è anche arbitraria. Se io voglio ti faccio la carità, altrimenti no. La solidarietà invece ha una dimensione orizzontale, cioè deve essere organizzata, ha una struttura ed ha un'idea politica alle spalle, politica che in quel momento era incarnata da quel partito, dal partito comunista. Però diciamo che anche altri partiti popolari hanno interpretato questa tradizione solidaristica che effettivamente riusciva a essere vicina ai bisogni delle persone. Quindi una politica che era capace non solamente di guardare all'oggi, al domani e al dopodomani per avere un immediato riscontro in termini di odienze, mi verrebbe da dire, però forse si dice like, approvazione, ma una politica che è in grado di rischiare neanche di essere impopolare sul breve periodo, ma di puntare a lungo periodo. E questa cosa in alcuni momenti della nostra storia credo che abbia funzionato. Non solo questa esperienza dei treni, che comunque ha salvato dalla morte di fame dall'inedia 70.000 bambini. Questo voglio sottolinearlo perché non erano dei viaggi vacanza o dei viaggi premio, erano dei viaggi che permettevano ai bambini di sostenere l'inverno, di ritornare. E anche le famiglie di origine, di sgravarsi dal peso di due, tre bocche da sfamare e cercare di ripristinare uno stile di vita più sostenibile, di trovare un lavoro. Inoltre, quando si parla di questione meridionale, di differenze tra nord e sud, un'iniziativa come questa che fece creò unione tra le famiglie, tra le persone. Allora il pregiudizio come si abbatte? Conoscendo l'altro, la famiglia del nord conosce quella del sud. E infatti, tu riporti, ve lo leggo perché mi sembra uno dei passaggi più belli, un cartello con sopra scritto, siamo i bimbi del mezzogiorno, la solidarietà e l'amore degli emiliani dimostra che non esistono nord e sud, esiste l'Italia. E' questo qui è un po' quello che stavi raccontando. Io ti vorrei portare anche sulla particolarità dei treni perché, ricordiamoci allora, i treni si muovono da sud verso nord, ci sono un sacco di treni che in quel momento si stanno muovendo in tutta Europa. Ci sono un sacco di persone, pensate alle esperienze dei campi di concentramento, di bambini di tanti tipi, poveri, che hanno subito la deportazione razza e che si stanno muovendo per l'Europa proprio perché verranno poi salvati, sostenuti in qualche modo poi potranno tornare alla propria vita. Questa esperienza qui si inserisce in quei treni. E l'aspetto del treno, certo, è scontato perché è documentato, in questo caso nella parte storica, però tu lo scegli anche quando nella parte che riguarda gli anni 90, gli anni 2000, poi il protagonista sceglie di non viaggiare in aereo ma di viaggiare in treno. Come mai? Io ho immaginato che il protagonista avesse avuto poi una sorta di rifiuto per il treno e quindi avesse prediletto altre forme di locomozione. Invece alla fine lui ci tiene proprio a rifare quello stesso cammino in treno perché ha bisogno di vedere quello che c'è attorno, perché ha bisogno di ripercorrere quello stesso tragitto, perché il treno è come un pendolo che va avanti e indietro e quindi perché la sua storia umana fosse completa da quel punto di vista aveva bisogno di ripercorrere di nuovo quella strada nell'altro senso. Ci voleva una circolarità secondo me nel suo andirivieni. Poi la storia dell'umanità è una storia di migrazioni e quindi chi vuole negare questo secondo me sta mentendo ma sapendo di mentire perché come si fa è una verità incontrovertibile. Le persone sono sempre spostate in cerca di qualcosa perché ci si muove sempre con un muovente altrimenti si rimarrebbe stanziali. Quindi c'è sempre una necessità che spinge a muoverci. Anche oggi dall'Italia, l'Italia non è solo un paese di accoglienza, l'Italia è un paese di emigrazione, c'è sempre il desiderio di cercare una dimensione diversa in cui potessi realizzare. E Amerigo, dopo aver fatto la sua esperienza, la sua microesperienza al nord, comincia anche lui a vagheggiare anche se a soli sette anni c'è qualcosa al di là del vicolo, c'è altra vita, ci sono altre opportunità, altre possibilità. Quindi comincia a essere preso da questo desiderio di andare. E la vita si spezza, no? Un po' quella di Amerigo. Tommasino è un altro personaggio che affronta lo stesso viaggio da sud, da Napoli verso il nord. Anche lui ritorna e lo rincontra Amerigo ma soprattutto ha avuto un'esperienza diversa. Per lui la vita non si è spezzata, no? Quando lo incontra è bella questa immagine perché ce lo descrivi con una scrivania in cui le foto che ha appoggiate riguardano sia la famiglia del sud che la famiglia del nord. Quindi dopodiché ti chiedo anche qualcosa sulla famiglia. Ma ora ti chiederei di descriverci quest'altro personaggio. Sì, allora quando Amerigo parte, accanto a lui sono tanti altri bambini e in particolare due, insomma, sono più vivaci, sono i suoi amichetti, sono Tommasino e Mariuccia. Mariuccia ha perso la mamma, ha un papà che fa il ciabattino a Napoli, è un numero indefinito di fratelli. E quindi Amerigo capisce subito, appena la vede circondata dai nuovi genitori del nord, Mariuccia resta qui, lui subito lo capisce. E Tommasino anche trova una famiglia che lo accoglie, però Tommasino a casa a Napoli ha una famiglia standard, quindi ha un papà, una mamma, per cui finita la sua esperienza modenese rientra nell'alvio della sua famiglia e la sua storia però ha un bel risvolto perché i legami con la famiglia del nord, come abbiamo detto, non si spezzano. Papà e mamma del nord lo aiutano negli studi, si crea una continuità nel rapporto. Quando Amerigo tornerà negli anni 90, rincontrerà anche Tommasino e scoprirà che lui è diventato un giudice che si occupa di minori. Quindi è come se la catena della solidarietà poi fosse fatta da tanti anelli, si autoalimenta, quindi non è un segmento, è una retta all'infinito, una volta che si avvia la macchina della solidarietà si creano dei nuovi semi che generano un nuovo raccolto. Se nel 1945 si poteva fare questo, prendere 70.000 bambini e su De Twain in maniera ordinatissima fargli vivere un'esperienza in un'altra famiglia, immagino quello che si può fare oggi con i mezzi che abbiamo, con la maggiore ricchezza che c'è e creare dei circoli virtuosi per le nuove generazioni. La tua conclusione di fatto del libro ritorna sulle scarpe, no? Quanto sono significative nella storia di una persona semplicemente descrivere con che scarpe sta camminando? Ma le scarpe sono il cammino, sono il punto di partenza, il punto di arrivo, sono il mezzo che permette all'umanità di mettersi in moto e di migrare, di raggiungere il suo desiderio. Quindi sono un oggetto magico, ritornando al mondo delle fiabe, e sono anche il simbolo dell'eguaglianza sociale. C'è una linea di start e si parte con scarpe diverse, uno con le scarpe e uno senza, uno con le scarpe bucate. Non hanno un punto di partenza equo, quindi è un simbolo di pari opportunità, di pari diritti. Tutti con scarpe nuove possono arrivare ciascuno dove vuole, uno fermarsi prima o dopo, ma almeno la possibilità ce l'hanno. Ma chi parte senza scarpe o con scarpe metaforicamente bucate? Poi neanche tanto metaforicamente, perché i migranti hanno ancora quelle scarpe lì, o non ce le hanno, o hanno scarpe di seconda, terza, quarta mano. E quindi è una cosa che anche visivamente ti fa capire che tu stai osservando e ti stai relazionando con una persona che è partita in modo diverso rispetto a te, perché quelle scarpe non sono le sue. Te ne accorgi, te ne accorgi da come le indossa, te ne accorgi da come le ha scelte, anzi come non le ha scelte. Quindi mi sembrava una metafora potente e mi sembrava interessante anche il fatto che anche quando Amerigo diventa grande e potrebbe avere le scarpe che vuole perché non ha più quel bisogno lì economico, continua ad avere un problema con le sue scarpe perché ho immaginato che in qualche modo lui sentisse di essersi andato a prendere una vita che non era la sua, si era quasi acciuffata, si era rapinata questa vita, questo cognome. E quindi ho immaginato che non fosse ancora a suo agio in quelle scarpe, però poi alla fine probabilmente trova il modo... Qualcuno gliele sistema, no? Qualcuno gliele sistema e gli spiega che se le scarpe non sono del tuo numero, banalmente cambia numero di scarpe piuttosto che cercare di fare una forma che non ti appartiene. Noi ti ringraziamo Viola, facciamo i migliori auguri per il successo di questo libro che è già tradotto, in quante lingue ci ricordavi? 28 lingue attualmente. Grazie a tutti.